Io sono stata per otto anni, nove anni la preside di queste scuole e chiaramente non posso parlare di Roberto come ho sentito parlare, però condivido quello che è stato detto anche dal punto di vista mio che era in fondo un punto di vista amministrativo. Quando sono arrivata lui mi ha telefonato e ha voluto incontrarmi ed ho trovato in lui, a differenza di tante altre persone che nella mia vita poi di dirigente scolastica ho incontrato prima, ho incontrato poi, una persona molto attenta ai bisogni della scuola, pronto ad ascoltare, cosa molto difficile talvolta e pronto anche a dare dei suggerimenti. Come ha ricordato la signora poco fa, quello che avete in queste due scuole, io sono testimone, è stato per lui. Il campo che c'è alla scuola Borsi è stato, ce lo abbiamo per lui, la sistemazione del cortile della Saffi che si è poi conclusa nell'ultima legislatura era stata avviata da lui. Il parlamentino che si è appena detto dove tutti i ragazzi di seconda e terza media partecipavano una volta al mese dopo aver fatto delle regolari elezioni all'interno della scuola, partecipavano lì a Viagoito proprio e si confrontavano con gli altri ragazzi delle altre scuole. Era un modo per cominciare a cimentarsi dal punto di vista politico ma non solo politico anche proprio di cittadini. Cosa dire? Io ieri sera sono stata avvisata, non sapevo nulla neppure della sua malattia. Beh vi dico, sono molto emozionata perché effettivamente lui è stato una persona, io posso dire con una parola molto semplice, un signore. Mai ha alzato la voce, mai è stato un prevaricatore, mai ha cercato di anteporre l'interesse che poteva essere suo del municipio a quelle che potevano essere le esigenze e le istanze che io manifestavo. Ho un ricordo bellissimo di questa persona, veramente un ricordo che in questi momenti così difficili ci fa riconciliare con la politica. E ringrazio, io stavo dietro, ho ascoltato, veramente sono state dette delle cose molto belle che mi fanno capire anche meglio. E vi voglio lasciare con un ultimo flash, quando sono andata in pensione ho voluto salutare un po' qui il territorio e anche se lui non era più il nostro assessore l'ho chiamato. E come è stato detto lui è venuto e mi ha portato un libro. Questo, non dovete ridere perché effettivamente per me, insomma, io cosa posso dare ai miei studenti, cosa ho potuto dare, adesso sono in pensione, ai miei studenti o ai miei professori, ai miei maestri? Soltanto la cultura, perché soltanto attraverso la cultura noi possiamo formare i ragazzi e gli uomini del domani. Beh, questo gesto, lui che era molto più giovane di me, veramente, guardate, sono senza parole, non ho preparato nulla di scritto, mi sono sentita di venire proprio per testimoniare qualcosa. Lui non mi ha mai parlato di sé, sapevo soltanto che aveva queste bambine, insomma, allora erano più piccole, e la più piccola non le conosco, ma effettivamente una persona squisita, eccezionale. Bisognerebbe avere tante persone come lui che oggi possano aiutare ogni singolo cittadino, perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie Roberto di tutto quello che hai fatto.